Anit, associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico, festeggia sui 30 anni di attività affrontando i temi del risparmio energetico e del comfort acustico, in occasione del suo terzo congresso nazionale, svoltosi il 13 novembre 2014 presso lo Star Hotel Business Palace di Milano. Ecoten è un prodotto assolutamente innovativo, ecobio sostenibile, da riciclato e riciclabile al 100%. Nel nostro intervento noi presenteremo una soluzione, a mio parere, molto innovativa, che consiste per fabbricati all'interno del materiale Ecoten, fabbricati che hanno delle ottime caratteristiche di isolamento acustico e di isolamento termico e quindi andiamo a coniugare quella che è la tecnologia già assodata, utilizzata del classico prefabbricato industriale con questa variante, con all'interno il materiale isolante Ecoten che, come ho detto prima, dà dei vantaggi non indifferenti. I vantaggi sono innanzitutto risparmio energetico in quanto aumentano l'isolamento termico e vantaggi dal punto di vista dell'acustica sia per quanto riguarda il rumore che potrebbe uscire dal fabbricato, stiamo parlando ovviamente di fabbricati industriali, verso l'esterno che anche un miglior comfort all'interno del fabbricato in quanto le pareti fonoassorbenti riducono l'eco e l'effetto riverbero. Un pubblico qualificato di tecnici con i quali si possono approfondire meglio vari dettagli che difficilmente si potrebbe fare in altra occasione, soprattutto incontrarli tutti insieme.